Una voragine enorme si è aperta all'alba lungo via Palermo a Villa Ricca in provincia di Napoli un boato ha preceduto il crollo che è stato avvertito dagli abitanti del posto all'altezza del civico 72 si è aperto uno squarcio nell'asfalto della strada che si trova al confine con Marano e Qualiano immediato l'intervento dei soccorsi, carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale insieme ad ambulanze del 118 e mezzi della proiezione civile sono arrivati sul posto diverse famiglie sono scese in strada spaventate dagli effetti del crollo e al momento alcune di loro sono state sgomberate dalle loro abitazioni non è ancora chiaro il motivo del cedimento e al momento non si registrano comunque feriti i militari della stazione carabinieri forestale di Castelvolturno, congiuntamente al personale e ai servizi veterinari e l'asl di Caserta hanno scovato un macello abusivo a Grazzanise in provincia di Caserta, la località Via Bonifica giunti sul posto all'interno di una costruzione sono trovati di fronte alla presenza di tre soggetti intenti alla lavorazione di carne bovina su di un bancone con coltelleria, attrezzature varie per il sezionamento della carne e una cella a frigo con ulteriori quarti di carne macellata la struttura è stata attrezzata ed organizzata come un vero e proprio piccolo macello con locale lavorazione di carni e cella a frigo infatti all'interno del locale erano presenti attrezzature professionali coltelleria ed un ceppo in legno nonché due tavoli di grosse dimensioni su uno dei quali erano posti tagli anatomici di un capo bovino le persone rinvenute in tenta alla lavorazione delle carni sono risultate essere una locale coppia di coniugi domiciliati lì mentre la terza persona è risultata esercitare la professione di macellaio tutte e tre sono state denunciate l'attività di macellazione è risultata completamente abusiva e nessuna documentazione presenti sono stati in grado di produrre anche in merito alla provenienza della carne bovina in lavorazione e quella rinvenuta nella cella frigorifera sono stati posti a sequestro circa 310 kg di carne la guardia di finanza di Salerno nei giorni scorsi ha requisito circa 5000 paia di scarpe con il noto marchio Nike contraffatto il sequestro è stato effettuato presso un noto rimeditore di calzature sportive del Vallo di Diano dove sono state rinvenute, esposte per la vendita alcune paia di calzature di dubbia provenienza i successivi accertamenti da parte delle fiamme gialle svolti anche grazie ad un consulente incaricato alla società hanno permesso di appurare che la merce appariva difforme rispetto agli standard originali la stessa infatti mostrava incongruenza e incompatibilità sulle etichette utilizzate e pertanto risultata essere contraffatta le scarpe venivano commercializzate sia in negozio che attraverso le maggiori piattaforme di e-commerce per un valore complessivo pari a quasi un milione di euro il rappresentante legale dell'azienda è stato denunciato per la detenzione e la messa in vendita dei prodotti contraffatti proseguono dunque le indagini per risalire la filiera del falso fino ai produttori anche al fine di quantificare l'illecito volume d'affari grazie a tutti grazie a tutti